No, Bugiardo non dirai tanto, comunque questi gol di scarto non ci sono. La Lazio è una bravissima squadra, hanno degli ottimi elementi, per noi è stato un buon test, comunque non abbiamo giocato come giochiamo di solito, non è andata bene per noi, comunque la Lazio è una bellissima squadra, gioca benissimo. Il nostro obiettivo è accedere ai play-off, se ci riusciamo a arrivare tra i primi tre ben venga.